Ciao ragazzi, benvenuti alla quindici, siamo partiti sulle tipi di Mellfather Allora, iniziamo subito a... Andare a sovredire nel gioco, vai Andiamo, andiamo, andiamo Fortuna cosa può... Ok Andiamo Ok Andiamo Andiamo Allora I will, this is my mother Ok E così fatto Andiamo Non nemmeno profondo Andiamo Ah, ok Andiamo 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 oh no oh no eh come andai diretti andai 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 oh come oh 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 che cazzo che cazzo che cazzo è una cazzo è un orto tornavo inizio a orto Listo, lì. Ok. Ragazzi, non c'è un punto morto. Se può buttare a un punto morto? Ah, è così un ragazzo. Andiamo. Allora, guarda, ho scritto. Scusami, shut up. Ah, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Ok, andiamo. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Oh, ok. 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 Oddio, che è l'ultimo? Ah, cavolo. Sì, questa parte finisce qui. La prossima parte è quella di scrivi, commentare e mettere mi piace. Ciao, ciao.